Bene ragazzi qui Johnny e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui su un video un po' particolare Siamo a vedere un easter egg su Nuketown Praticamente se parliamo alla testa di tutti i manichini presenti sulla mappa Entro 90 secondi Si attiverebbe un easter egg Non so bene che easter egg sia Quindi direi di partire e ci vediamo subito in partita Ok eccoci qua cerchiamo di fare molto in fretta Senza a perdere Senza a perdere troppo tempo Perché ne abbiamo veramente poco Ok Un po' la mira a banane E questa ok Anche se ti fa perdere la capa Tu vuoi anche perdere la capa Qui ci sarà qualcuno o no Però controlliamo il bello di qua Vediamo i mila tutti Ok Stendiamo su Questa Tu 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 Quei ne abbiamo Una qua E l'altro là Perfetto Quei ne abbiamo una qui Uno qua Scavalchiamo Vogliamo sempre Che non c'è nessuno Ma vi sembra di no Perfetto Questo Qui no Questo 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 Ok Dai 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 Manca Veramente poco forse Questo Questo Ok Il banchino non c'è Ok Vediamo qua Questo qui Perfetto E uno E due E tre Qua Ok Dovemmo essere l'ultimo Esatto Ok Abbiamo attivato l'SREG Praticamente Ok Sono diventati Zombie E mi vogliono tutti Suprare Oddio mio E' un po' Inquietante Com'è Essere l'SREG Sinceramente Mamma mia Sembra di essere Sulla modalità Zombie No vai via Vai via 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 Davvero Figo Ah ma Pazzo Ahia Però Vormi qui non è il massimo Però Comunque spero che Vi vi hai fatto vedere Qualcosa di diverso Su Call of Duty Magari Qualcuno Non lo sapeva Perfetto Vediamo quanto Riusciamo a sopravvivere In teoria Non dovrebbero mai finire Esatto Prenditi Sta a 5 Non riesco a prendere Aiuto 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 Non la ficca Nincu Ok Abbiamo sbloccato l'abilità Vediamo un po' Se riusciamo a fare Sì sì Abbiamo fatto un po' Il culo a tutti Bene Io Direi che il video È finito S-Rag è riuscito Ed è veramente Molto figo Mi sembra Mi riesco in fretta Comunque Se il video ti è piaciuto Lasciate un like Commentate Iscrivetevi Anche alla pagina Facebook Instagram Che trovate in descrizione Se il video ti è piaciuto Iscriviti E noi ci vediamo Nel prossimo video Woo